Vivo Cantine decide di collaborare per l'organizzazione del festival letterario principalmente perché con gli organizzatori del festival abbiamo un intento comune, una passione comune. Il festival letterario è la passione per la letteratura, Vivo Cantine è la passione per la viticoltura, la passione di entrambi per il territorio della provincia di Treviso. Siamo molto contenti della prima edizione, siamo però convinti che la sensibilità dei partecipanti dia maggiore soddisfazione agli organizzatori e dia anche a noi come sponsor la grande soddisfazione di aver avvicinato l'agricoltura e la viticoltura in particolare alla letteratura locale. L'augurio che tutto si svolga nel migliore dei modi, speriamo sì che sia una ubriacatura di parole, di lettere, di racconti. Grazie a tutti! Grazie a tutti!